Il Museo Etnografico degli Abiti e Tessuti Tradizionali Abruzzesi, un'esposizione permanente e imperdibile per tutti gli appassionati e non solo, inaugurato al Palazzo Ducale Valignani di Torrevecchia, Teatina. Si tratta di collezioni di tessitura familiare, abiti tradizionali abruzzesi, statuine di terracotta dipinte a freddo relative a un periodo storico compreso tra il 1800 e il 1920. Lavori originali di assoluto pregio e di un valore pressoché inestimabile che raccontano oltre un secolo di vita in Abruzzo tra le influenze borboniche ma anche vittoriane per un progetto fortemente voluto dal noto antropologo e docente all'Università Gabriele D'Annunzio Francesco Stoppa dopo oltre vent'anni di studi e ricerche con la collaborazione del Centro di Antropologia Territoriale degli Abruzzi per il turismo dell'Università e dell'Associazione Compagnia Tradizioni Teatine. È un lavoro che ha richiesto tutta una vita e il valore è enorme, ripeto, forse c'è potuto comprare due Porsche con quello che è costato questo museo, ma non è l'investimento economico ma quello intellettuale perché dietro ogni abito, dietro ogni oggetto c'è una ricerca profonda e anche una conoscenza del territorio. Quindi tutto questo lavoro ovviamente è una grande eredità che io lascio perché ho intenzione poi di regalare tutto questo museo al popolo di Torrevecchia Teatina ma all'Abruzzo ovviamente. Questa mostra, ma lo studio delle tradizioni in generale ci porta verso un tentativo di migliorare il nostro futuro perché stiamo distruggendo il pianeta, questo lo sappiamo e quindi dobbiamo cambiare qualcosa. Se i nostri antenati vivevano tutto sommato bene, basta guardare la ricchezza di questi abiti senza contare i gioielli e quindi diciamo che non erano così poi poveri e certamente la fatica era enorme per coltivare la terra, per tessere, ma loro lo facevano con gioia cantando. Infatti il canto accompagnava ogni azione della vita quotidiana. Gli abiti raccontano una storia, soprattutto la storia dell'influenza della ferrovia costruita dagli inglesi che hanno portato materiali nuovi, nuove mode e quindi abbiamo nel museo abiti di foggia borbonica o comunque tradizionale abruzzese e abiti tradizionali ma di foggia vittoriana. E questo ci deve far riflettere su come cambiano le mode, come cambiano le mode e come gli abiti raccontano una storia. Riteniamo che investire sul patrimonio culturale sia fondamentale, non solo per la crescita della nostra collettività ma anche per la crescita del nostro turismo. Infatti il turismo culturale può rappresentare un volano importante per far conoscere il nostro territorio anche al di fuori dei confini regionali. Grazie per la visione!